Buongiorno ragazzi, buongiorno, benvenuti su Crypto Salad ancora oggi, io sono Federico, è il 21 giugno 2019 e nel video di oggi commentiamo la price action di Bitcoin, questo perché Bitcoin sta testando o comunque spingendo contro livelli di resistenza che sono molto importanti, sia a livello di chart che a livello psicologico. Sto parlando dei 10.000 dollari per Bitcoin, che logicamente gioca un elemento fondamentale a livello psicologico sopra o sotto i 10.000 dollari per Bitcoin e ci sono anche delle linee di potenziale resistenza che confluiscono proprio sopra il prezzo di Bitcoin in questo momento. Quindi andiamo a guardare insieme la chart sulle 4 ore, sul giornaliero e sul settimanale per andare a speculare quello che potrebbe succedere. Mi raccomando ragazzi, non dimenticate di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non fosti iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche. Iniziamo ragazzi guardando il time frame delle 4 ore e come già abbiamo osservato nei precedenti video, Bitcoin si muove da qualche settimana a questa parte all'interno di un canale ascendente, vale a dire con livelli di resistenza che sono tra loro sempre più elevati e livelli di supporto che sono sempre più elevati, massimi più alti e minimi sempre più alti. Vedete qua due punti di contatto con questa linea gialla in resistenza, due punti di contatto con la linea gialla in resistenza e poi diversi punti di contatto con il supporto, in particolare tre punti di contatto con questa linea tra il 4 giugno e l'11 di giugno scorso. Da quel momento lì Bitcoin è volato in maniera parabolica bucando i precedenti massimi per il 2019 e precisamente nella giornata di ieri Bitcoin ha creato un nuovo massimo bucando il precedente creato precisamente il 17 di giugno vicino ai 9500 dollari. Quindi in questo momento Bitcoin si trova a 9795 dollari per lo meno su Bitstamp e sta fronteggiando un livello di resistenza molto importante. Il primo delineato da questa trend line rossa che vedete che era il supporto del nostro precedente rising wedge, per cui una formazione che si trova di solito alla fine di un importante movimento rialzista che è una formazione di tipo ribassista, vale a dire è probabile che si rompa il supporto al ribasso. Questo era esattamente quello che era successo durante il 3 di giugno scorso. In questo momento la stessa linea che prima agiva come supporto, vedete qua in diverse occasioni, 1, 2 e 3, sta agendo come potenziale resistenza per il prezzo di Bitcoin. Vedete esattamente qui, in questa circostanza, Bitcoin si trova proprio al di sotto di questa linea ed esattamente qui nei giorni precedenti ha trovato proprio resistenza su questa linea. Quindi la prima possibilità è che Bitcoin venga eventualmente rigettato da questa linea, possa consolidare, possa respirare, raffreddarsi per poi eventualmente testare nuovamente questo livello di resistenza. Se invece Bitcoin dovesse passare al di sopra i 9.800-9.900 dollari, il successivo livello di resistenza sicuramente importante sarebbe vicino ai 10.100 dollari. Corrisponde proprio a questa trendline che ha agito come diverse volte, come resistenza, e ogni volta che Bitcoin ha toccato questa linea è stato rigettato, che si trova, come dicevamo, a 10.100 dollari all'incirca. Quindi se Bitcoin dovesse continuare a salire dovrebbe affronteggiare la prima resistenza data da questa linea rossa vicino ai 9.900 dollari e poi ai 10.100 dollari per la linea successiva. Se Bitcoin poi dovesse superare entrambe questi livelli di resistenza sicuramente allora vedrei un forte movimento di Bitcoin come prossimo target, eventualmente i 13.000 dollari. Vi ricordo che abbiamo gli oscillatori che sono molto estesi in questo momento, perlomeno su time frame delle 4 ore, poi vediamo gli altri. Qua stiamo sull'RSI stocastico e vedete che siamo decisamente vicino ai 100, quindi potrebbe essere che il prezzo voglia respirare in questo momento e quindi ritracciare perlomeno sulle 4 ore. E poi l'RSI, vediamo che anche qua siamo in territorio sovracomprato, di poco sopra ai 75. Quindi in questo momento potrebbe essere che sulle 4 ore il prezzo di Bitcoin voglia un attimo prendere respiro per poi eventualmente testare ancora questi livelli di resistenza. Se andiamo poi a guardare il time frame giornaliero voglio farvi notare un movimento di Bitcoin molto interessante. In particolare Bitcoin da qualche mese a questa parte sta creando dei movimenti che sono similari, dei pattern che sono tra loro similari, che stanno avendo perlomeno nei due casi precedenti lo stesso risultato. Vedete qua Bitcoin si muove all'interno di un canale sempre ascendente esattamente come stiamo osservando adesso. Dopodiché ha rotto la resistenza di questo canale per fare un movimento verso l'alto del 30%, successivamente di nuovo canale ascendente con livelli di supporto e di resistenza sempre più alti e successivamente rottura della resistenza con movimento repentino verso l'alto e guadagno del 35-37%. Quindi in questo momento se Bitcoin dovesse ancora rompere questi livelli di resistenza e dovesse ripetere quello che è accaduto in precedenza potremmo aspettarci un Bitcoin vicino, quindi una crescita del 30-35% per il prezzo di Bitcoin dalla rottura e quindi potremmo arrivare vicino ai 13.700 dollari. Ovviamente se dovesse accadere nuovamente quello che è accaduto in passato ma quello che accade in passato non è ovviamente garanzia di quello che accadrà in futuro. Stiamo a vedere se Bitcoin dovesse essere rigettato da questa resistenza o dovesse bucarla e arrivare eventualmente ai 13.700 dollari come potenziale target. Se passiamo un po' ragazzi a guardare insieme il time frame settimanale, anche qua interessante, voglio mostrarvi sempre il nostro RSI stocastico decisamente da diverse settimane sovraesteso sopra gli 80 per cui in zona sovracomprato. Ci sarà prima o poi una correzione, bisogna solo capire quando e di quanto sarà. Secondo me ci sarà comunque una correzione del 20 o del 30% a ribasso, che è una cosa sana comunque per il prezzo di Bitcoin, la possibilità di creare nuovi minimi sempre più alti. E se guardiamo anche l'RSI vediamo che in questo momento è interessante, la chiusura della candela settimanale sarà domenica e se il livello dell'RSI non si posizionerà al di sopra del precedente massimo, che si trova a 80, avremo una divergenza bearish per cui una formazione sull'RSI decisamente ribassista con la potenzialità di avere un'importante correzione. Quindi è da un po' che non vediamo una divergenza bearish sul settimanale, quindi vediamo esattamente dove si posizionerà l'RSI a chiusura di questa candela settimanale, per cui precisamente domenica, se sopra o sotto il livello 80, quindi se si crea una divergenza bearish o altrimenti no. Voglio mostrarvi in ultimo una cosa di cui abbiamo parlato settimana scorsa, la presenza di un gap sul CMI. Vi ricordo che questi gap hanno un'altissima probabilità di essere riempiti e in questo momento il gap è molto evidente sia a livello giornaliero che a livello settimanale. E il fatto che sia a livello settimanale indica che ci vorrà probabilmente molto tempo o comunque qualche settimana affinché il prezzo di Bitcoin torni a riempirlo. Ovviamente se tornerà a riempirlo, ma questo è quanto accade nella maggior parte dei casi o nella stragrande maggioranza dei casi. Vedete che il buco è bello evidente e si trova qui a una base vicino agli 8500 dollari e in questo momento Bitcoin non sembra essere molto interessato al fatto che ci sia un buco al di sotto della chart. Quindi potremmo eventualmente rompere i livelli di resistenza a 10.000 dollari, 10.000-10.100 dollari ed essere in quel momento forse rigettati per andare a riempire successivamente nelle prossime settimane questo gap a 8500 dollari. Quindi ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate, grazie per la vostra attenzione, grazie per i vostri commenti, per i vostri mi piace, continuate a seguire CryptoSalad e ci vediamo al prossimo video. Ciao!